È indispensabile sperimentare anche in Basilicata, come già avvenuto in altre regioni italiane, la farmacia dei servizi, prevista dall'articolo 11 della legge numero 69 del 2009, quale front office del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero come punto professionalmente qualificato sul territorio per facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi e alle prestazioni della sanità pubblica. Lo sostiene il consigliere Trerotola, che sottolinea come in questi lunghi e difficili giorni di pandemia le farmacie hanno ulteriormente confermato il ruolo centrale che svolgono sul territorio come presidi a tutela della salute dei cittadini capillarmente presenti in tutti i comuni. Invita pertanto la Giunta ad adoperarsi con celerità per consentire anche ai lucani di fruire di farmacie e di comunità beri e propri avamposti di prima assistenza in cui, oltre alla distribuzione dei farmaci, si possano svolgere funzioni di supporto all'utenza per controllarne lo stato di salute, migliorarne l'aderenza alle terapie e compiere la ricognizione farmacologica, nonché attivare il fascicolo sanitario elettronico, effettuare prestazioni di telemedicina e partecipare a screening preventivi.